in questo modo raga io posso fare streaming di qualità su youtube twitch e un preview perché poi posso comunque importarli dopo un preview delle live anche su youtube mi piace, sai, sai proprio allora vediamo una gira, boom shakalaka andiamo di riuscire a fare qualcosa di fichissimo allora questi sono i giochi quelli fichissimi raga incredibile incredibile gemma a stella il quadrato, il quadrato non arriva a giro questi sono i classici giochi da cellulare no raga e quindi sono molto carini, a me piacciono un sacco diciamo che questa è solo una live di presentazione voglio fare un bel esperimento sia su youtube che su Twitch con D-Live bella lì, bella lì certamente l'audio da cellulare sarà uno schifo eh però l'importante è di usacchirsi insieme nonostante ora no cattro 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 eccellente 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 io non ho adesso questo giorno va allora ok sono fatto due fanno 4 non c'è una cosa qua è non a che cazzo no cazzo battiamo la cionda eccolo ciao ragazzi benvenuti 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 io credo che vada avanti questo mi piace questo mi piace devo far scendere mi piace proprio il bloc di tutto io credo per giochi così allora c'è un gioco della xbox che non mi fa trasmettere è dovuto per forza fare così con il cellulare che è veramente bello non so per quale motivo non mi fa non so per non faceva strimare quindi diciamo che è un po' au e quindi ho provato a fare questa cosa del questa cosa del trasmettere anche con il cellulare direttamente tipo live e non è male allora io adesso devo capire che posso fare delle sono 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 ore 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 volevo presentarvi anche l'altro gioco dei one sempre sempre sul pass Xbox è è questo è il top è il nostro è il cellulare però devo dire la verità che è non 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 riesco a vederne tre è è non e invece si è proprio quella ok 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 gattata da 5 Che quai Ok, di livello a 4 No, non ho vedo 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 Non ho vedo Numero completato si va di giocare con il gioco la? quello musicale? adesso guarda sto facendo una live ho visto che è quasi l'orario di andare a mangiare la pappa dove dove dove? eccolo qua sono carini questi giochi l'ho sbagliato quello l'ho sbagliato da 4 resto resto dove dove dove? questo qui dicevi? bam doppio devo portarci in verde c'è uno che lo fanno qui questo è? non l'ho visto da 6 nooo non l'ho proprio vista cacchio da 6 era pichissimo 4 4 4 4 guarda l'ho spostato da destra a sinistra 4 4 anche qui 4 5 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 gioco al grande zone boi adesso alla volta e così li hanno efficienza perfetto ben fatto adesso Beige e Weller 3 ragazzi adesso non so come sempre di me non voglio spostare queste cose eh eh ma se io sposto uno qua e posso fare quattro no ma sposta il bianco il bianco di uno e va giù e fanno quattro eh bravo grande e fai... eeeeh grande eeeh 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 no no per fortuna si giochi però vedi la barra sotto quella blu quando aumenta e arrivi fino al fondo praticamente si riesce a compilare sempre eeeh 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 oh doppio un quattro blu un quattro blu sotto 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 un quattro blu ok che 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 Facciamo questo, facciamo un altro livello ragazzi e poi andiamo a fare un po' di bonghi 5, 5, 5 Il rosso in mezzo Adesso tu lo prendi e vai verso quello che c'è di più, il colore Questo verde, ok, ti spoglio tutti i verbi Eh, 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 con una per la mano No dai, siamo a livello 9, arriviamo al 10 Per questo tu, poi l'altro lo faccio io E poi salutiamo i nostri emici con Bege Weller 3 E non so come si pronuncia, ma io ho detto Bege Weller 3 E' un gioco Xbox 360 Ragazzi, lo trovo più fatto eh Eh, 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 bravo Bravo, 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 bravo E c'hai già quell'altro, no, no, lì devi aspettare di tirarlo giù da là E, eh, 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 le fai? No, 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 ancora Giallo, lo faccio sparire adesso No, no, giallo, ok, giù, 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 no, no, giallo al metro Nooo, c'è da giù la fila Quello lì era, quel giallo lì Non c'è da giù la fila in due di là, andavi su di uno Eh, beh, per forza Beh, fai sparire Perché quando giochi, eh, è difficile, no? Volevo, puoi vedere dal tuo cellulare la live mia come si vede L'ultima partita Attacca un attimo YouTube, voglio vedere com'è Se la fa vedere come la live normale dei giochi Oh, bella lì, bella lì No, non puoi farlo Fai da giù giallo Bravissimo Porca Oh, 4-4 con rosso No, 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 no Bravo, 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 bravo Grazie, c'hai il occhio Oh 4 con bianco 5 con bianco 5 con bianco 5 con bianco 5 con bianco oh bello che possiamo fare qualcosa oOOHH quello sulla linea sopra 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 no 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 aaaah che figo così eeeh cazzi per il riello grazie guardila dai guarda qui che c'è già guarda qui che c'è già Freddy wall Ah, vedi proprio così, come si sente? Ehi ragazzi, ciao a tutti, facciamo le prove tecniche per trasmetterli in più piattaforme contemporaneamente. Un po' l'eco, se io metto l'auricolare sul telefono, accendiamo per proteggire la luce, forse spara un po' meno, a livello, guarda com'è, si vede un po' meglio? Beh, forse si vede un po' meglio, grazie mamma, si si si, si vede un po' meglio, grande grande va bene, ok, 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 esplodere ragazzi che arriverà sempre un pezzo vedete 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 bianco mettiamo il colore giusto per andare avanti però qua sto quasi non vi scendo un passaggio grosso anzi solo riesco a buttare giù la musica oggi è arrivata oh guarda qui sarebbe da 5 non c'è l'espo non c'è la quattro ben fatto eh 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 posso farci da quattro no 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 buon chaparata E poi sto? E vai ragazzi, vai! E poi sto? Usciamonos, se si può uscire, si? Se gli facciamo un po' di carino, carino. Vedi, c'è un cazzo di modalità. Va bene ragà, da Marco Drams. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.